Benvenuti cari amici, un nuovo appuntamento con il cuore delle parole, con le autrici e gli autori del territorio e oggi abbiamo con noi una professoressa che viene dall'Astigiano, diciamo pure Asti, ma oggi parleremo di un paese, l'impresa di Asti, oggi parliamo di un libro pubblicato prima della pandemia, poi è successo qualche successo e quindi è un libro nuovo in un certo senso, è un libro molto particolare, già il titolo è particolare, voglio andare ad Aramengo, ecco, perché ad Aramengo? Allora, Aramengo è un paesino che esiste, molto carino, che esiste al confine tra Asti e Chivasso, possiamo dire, dalle parti di Vezzolano, ecco, era quasi dimenticato, un paese a 32 km da Asti, abbastanza lontano, e quindi io ero insegnante appena diplomata e avevo fatto un primo concorso e quindi ero stata contattata dal provveditorato con i punti, diciamo, del diploma e soltanto che il postino non mi aveva trovata. Allora, cosa succede? Che dal provveditorato mi telefonano a casa, c'era ancora il telefono fisso a casa, e mi diceva, ma signora, perché non le interessa Aramengo? Aramengo? Intanto pensavo, ma esiste, cos'è sta roba? Perché ha un incarico animale ad Aramengo, lo dico subito se non ci vuole andare. Io ho detto, no, no, io voglio andare ad Aramengo. La prima volta una persona dice, voglio andare ad Aramengo, perché è famoso ad Aramengo, per chi non sa andare ad Aramengo, vuol dire chiaramente, diciamo, fallire, andare mare, perché pare che un tempo chi fallisse lo mandassero ad Aramengo, nella città di Asti. È una delle possibili spiegazioni, ecco. Però è un bellissimo paese, tra le colline del Monferrato, vicino al famoso Passano Marmorito, famoso per altri motivi. Ci è passato Napoleone, ci è passato Napoleone, ha preso delle cose molto belle nella chiesa, e quindi, insomma, così dicevo. E la professoressa Bogliancini passa un anno della sua vita, della sua casa scolastica, in quelli di Aramengo, e siamo nell'anno 72. 72, 72. Lì mi hanno contattata praticamente, sono andato subito a vedere, ed era la fine di settembre, ma il 2 settembre, perché era lunedì, era il 2, è cominciato l'anno. E lei ha fatto questo anno qua e ha deciso, tanti anni dopo, qualche... 46 anni dopo. 46 anni dopo, così di mettere su carta questa esperienza, perché fu un'esperienza particolare. Intanto il paese, nella sua classe, aveva esattamente 10 studenti. Sì. Nella fotografia che vedete, sono 10. Purtroppo nella fotografia nel retro, sono solo più 9, perché oggi uno dei 10 non c'è più. Ed fu un'esperienza particolare, e si vede proprio dal contenuto del libro, perché fece un programma, diciamo, non consueto, no? Eh sì, per fortuna si poteva allora, volendo. Cioè, c'era ancora, si dava ancora abbastanza spazio allo spirito iniziativa degli insegnanti, e c'era questa libertà di insegnamento. Cioè, c'era la programmazione, i programmi del 55 avevano, davano delle linee ben precise. Però c'era spazio per il lavoro di, diciamo, proprio di, dell'artista. Certo. Educare è un'arte. Certo, una didattica intelligente, magari anche una didattica mirata al luogo in cui ti trovi, e alle persone, e al ceto sociale dei tuoi alunni, no? Certo, sì. Perché se una cosa insegnare, per dire in barriera di Milano, una cosa insegnare ad Aramengo, una cosa insegnare ad Asti Centro, una cosa insegnare ad Asti Periferia. Sì, ti trovi davanti delle realtà molto diverse. Certo. Le classi, ad esempio, classi molto numerose, pure piccole classi, no? Magari di 4-5 allievi. Sì, questi erano tutti i bambini del paese in quel momento. Certo. Questi dieci bambini erano i bambini del paese. Del paese. Non c'era uno che non fosse presente. Non era nessun foresto. Ecco. Era una pluriclasse o stessa età? Pluriclasse. La pluriclasse. Quindi c'erano tre bambini in prima, poi ce n'era uno in seconda, mancava la terza, quell'anno non era nato nessuno. In quarta ce n'erano due e in quinta ce n'erano tre. Bambini e bambine molto diverse. Che però, grazie anche, bisogna anche dire, all'umiltà e all'intelligenza dei direttori di quel tempo, che bene o male permettevano appunto queste cose, venivano in punta di piedi a vedere, insomma, che cosa faceva l'insegnante, con rispetto per gli insegnanti e per i bambini. E quindi si è potuto fare un bel lavoro, proprio radicato. Erano gli anni veramente di Don Milani, di Mario Lodi, di Bernardini. C'erano state delle esperienze bellissime, Don Zeno, che purtroppo ho scoperto dopo. Però erano anni in cui, veramente, dal punto di vista educativo, si dava molta importanza ad educare i bambini del futuro. Perché i bambini erano il futuro della nostra società. E anche nelle famiglie, che erano quasi tutti contadini, solo una forse di commercianti, sì, una, e un muratore, insomma, ma si viveva sull'agricoltura. Certo, un paese di vigne, un paese di... Sì, allora, adesso nemmeno più le vigne, perché c'erano tutti gli anni, c'era una grandinata. Certo, una tempesta, quindi... Comunque questi ragazzi hanno poi fatto strada tutti e ci siamo ritrovati come se ci fossimo lasciati il giorno prima, dopo 46 anni. Lei è stato un anno libero, è stato un anno molto intenso, un anno intenso. Ecco, appunto, vi hai detto, 46 anni dopo, no? Sì. Com'è stato, appunto, ritrovarli? Nel frattempo lei ha fatto altre esperienze, però loro sono cresciuti, purtroppo appunto uno è mancato. E quando lei, nel frattempo, lei li ha ancora sentiti oppure li ha ritrovati dopo 45 anni? No, è proprio c'è stato questo stacco, perché io sono stata assorbita da 20 anni di esperienza totalizzante, come è stata quella, perché dunque sono stata assorbita da questa esperienza di... Cioè, praticamente ho vinto l'altro concorso, non è stata la prima, e così ho dovuto per forza scegliere una delle quattro sedie di Asti. Ho capito. E allora ho scelto la sede, che mi sembrava più congeniale in quel momento, che era una sede nel villaggio operaio, una scuola prefabbricata, scuoletta prefabbricata, senza nome ancora, sorta l'anno prima, e quindi sono andata lì. E poi mi sono fermata lì, perché Don Milani diceva, vai in un posto, fermati. Allora si cercava di fare. Ecco, e fermati, mi sono fermata a 20 anni lì, poi mi sono passata alle superiori, a un certo punto, perché intanto erano venuti fuori moduli galloni, cioè cominciava a cambiare moltissimo la situazione nelle classi, cioè sono stati introdotti tanti insegnanti, ma quello non sarebbe stato il male, il guaio era l'avvicendamento continuo, perché arrivavano non tutte insegnanti di ruolo, quindi tutti gli anni si cambiavano colleghe, e poi tre o quattro, quindi era un problema abbastanza serio, perché non tutti avevano, erano solo la stessa lunghezza d'onda, infatti dopo, e adesso sono successe molte altre cose, perché è sempre andato avanti, si è sempre andato avanti su questa strada, quindi... Anche perché poi tra l'altro è cambiata appunto la scuola dal punto di vista degli insegnanti, è anche cambiato la società e i ragazzi, cioè se oggi vediamo una classe così in un paese, probabilmente su dieci ragazzi cinque sono magari marocchini, slavi, di colore, cioè è cambiato anche il cliente, scusate il termine brutto, no? L'utente, diciamo l'utente, ecco. L'utente è cambiata, immaginiamo rapportarsi con, per dire, con i genitori che si parla in piemontese, immaginiamo invece con i genitori parlare in italiano stentato magari, parlano meglio l'italiano i ragazzini che i genitori in molti casi. Non c'è quello il problema, perché dopo l'ho trovato quel problema lì, ho avuto per esempio i primi anni in questo villaggio operaio, diciamo, vicino all'Aversauto, che adesso non c'è nemmeno più l'Aversauto, è vuota. Con l'età cinese. Infatti, comprati dei cinese. E comunque, allora avevo tutti i genitori che venivano dal sud, quindi avevamo questo fatto, e poi però avevamo anche, quindi accanto a questi bambini che avevano, venivano da famiglie, che avevano dovuto emigrare, venivano da sud, erano lì con tutti i bambini piccoli, insomma, si trovavano in questa situazione. Accanto a queste famiglie c'erano famiglie di ragazzini che cominciavano a sentire un po' che si faceva questo tipo di scuola e sceglievano questo tipo di scuola. Andavano dal provveditore, dicevano voglio andare in quel posto lì, da quella persona lì, pazzo, ed è così. E allora, però allora si poteva fare un bel lavoro lì. Poi finito quel fatto lì, c'è stata l'ondata dei sinti, è cominciata questa. Quindi non è tanto quel problema lì, perché se nella scuola si vuole fare una famiglia, diciamo proprio, si vuole stabilire un certo clima, avere un certo tipo di rapporto con la realtà, perché appunto non dimentichiamo che questi di Anamengo erano gli anni del terrorismo. Quindi anche se questo è un paesino tranquillo e sereno, però arrivavano gli ecchi del terrorismo e io arrivavo da una classe dove, da una classe avevo fatto il, beh, è troppo lungo sarebbe un discorso comunque, voglio dire, in città c'erano queste, non si parlava, c'erano attentati, c'erano di tutto. Ecco, erano gli anni in cui c'era chi si provava a cimentarsi nel sociale, ecco, ed era abbastanza impegnativo anche quello, però appunto, come dicevo, c'era questo discorso della libertà di insegnamento, del rispetto del bambino, non per niente parlo di Giovannini, perché non si può insegnare la matematica a Giovannino se non conosco i miei Giovannini, diceva la pedagogia, eccetera. E poi anche il discorso socratico, se vogliamo andare su, che bisogna partire sempre dal ragazzo, che è quindi un rispetto proprio per il ragazzo, per il mondo che si porta dietro, questo bambino. Quindi non è tanto il problema delle lingue diverse, delle provenienze diverse, quanto il problema di avere tutti una stessa, voler tutti fare riuscire un progetto educativo scolastico, fare in modo da star bene insieme. Ecco, quella deve essere, la scuola deve essere un ambiente dove si sta bene, si è felice di andare. In cui si cresce tutti insieme. In cui si aiuta, anche perché poi nelle prime classi era così, perché uno di quinte elementari magari aveva una matematica di prima. Aiutavano quelli. Infatti dopo 46 anni ci siamo ritrovati, e questo è una, praticamente è una sintesi di tutto quello che questi ragazzini hanno scritto, nei momenti liberi scrivevano, perché questi erano per me, scrivevano queste cose per la maestra, così la maestra aveva un ricordo. E quindi mio fratello e mio marito facevano le foto, eccetera, eccetera. Per cui, però il materiale era vastissimo, c'erano 600 pagine, se ricorda, abbiamo dovuto tirare fuori 200. Ecco, allora, ma sì, poi quando ho avuto bisogno di avere le liberatorie di questi ragazzi, allora abbiamo dovuto cercarli. Allora è stato difficile trovarli, perché adesso più nessuno ha il telefono fisso, quindi i cellulari, c'è pensato mio marito, si è arrangiato lui, li ha trovati, e alla domenica c'erano già tutte le liberatorie pronti, ci siamo ritrovati con, per esempio, Giulietto che era un cappellone, senza più un cappello in testa, diventato il vice sindaco del paese, per esempio, poi ognuno ha avuto la sua strada, e non c'era più Vittorio, per cui il libro è dedicato a Vittorio, che Vittorio è mancato 40 anni, ma ha fatto, è stato un, insegnava alla fine, ai ragazzi, a spegnere gli incendi boschivi, era andato, era un volontario per spegnere gli incendi boschivi, è andato all'Aquila, insomma, ha fatto delle belle cose, sì, poi il tumore se l'è portato via, però abbiamo, allora ci siamo ritrovati, e io sono arrivata con tutti i quaderni, con tutti questi quaderni, dicendo che ne dite? immediatamente è scartata questa magia, cioè abbiamo ricominciato a parlare, a ridere, a scherzare, si vede nelle poche foto in fondo, come se nulla fosse, e di lì è ricominciato tutto, è ricominciato tutto, e adesso ci siamo, ci ritroviamo, ecco, spesso, l'ultima volta... Ecco, loro hanno proseguito a essere compagni di scuola, quindi loro hanno continuato a essere amici, no? Sì, però, dicono, quando andiamo in giro, l'ultima volta siamo stati lì e passeranno marmorito, e loro, ho detto stavolta, li voglio proprio dietro il banco anche loro, perché sono coautori, e quindi loro hanno detto, diceva, dice Giulietto, che è questo, faceva allora quarta, e diceva appunto a nome di tutti, ma noi ci conoscevamo, ci vedevamo, ma ci eravamo un po' persi, invece questa cosa del libro ci ha fatti ritrovare, cioè ci fa ricordare questo mondo che è stato così bello, questa infanzia, questa adolescenza, questa esperienza che è stata bella, e che i nostri figli non hanno avuto così. Ah, sì. Eh, e quindi... E tra l'altro, il potere dei libri, loro saranno per sempre fissati in un libro in quel momento lì, cioè loro saranno insieme, comunque vanno dando le loro vite nel futuro, perché comunque hanno intorno ai 50 anni, o più o meno, 55, più o meno, no? Per sempre questo libro qua li ha fissati e anche ingabbiati in quell'altro lì, no? Sì, sì, quei bambini, infatti io ho in mente quel bambino, quella bambina, cioè dico, ecco, Natalina è quella che non parlava, che adesso parla fin troppo, e poi per me era un problema, poi invece si è risolto, poi non so, magari era nato, era un bambino spiritoso, ognuno ha la sua caratteristica, per me è quello, e poi invece li ho ritrovati ed è stato bellissimo, ecco, il libro è ricchissimo di fotografie, veramente è un documento di storia anche per cui è molto piccolino, i costumi, vedere queste classi, questa classe qua degli anni inizio del 70, gli inserti anche dei giornali, la mamma di Renato con il negozio e la bottega, con il... esatto, perché appunto le fotografie le faceva suo marito e suo fratello, sì, mio marito, queste le ha fatte mio marito e le ha stampate mio marito, invece mio fratello più le diapositive, le diapositive sonorizzate, che allora si facevano... E allora, se ci penso un attimo, no? Fare queste foto in classe, oggi non si può più, adesso... Ah, guai, ma è più, no, no, no? Oggi è illegale, qui è ok, è tutto benissimo, ma oggi provare a fare una cosa del genere, o chiedere la liberatoria, ma poi oggi purtroppo con le famiglie spesso separate... Sì, sì, questo, uno dice sì e l'altro dice no, e poi anche tra insegnanti... Punto, magari uno non è d'accordo... Certo, uno lo dice in un modo e l'altro in un altro, questo che complica le cose. Quindi è un libro prima di un altro mondo che non so se è meglio, sinceramente, questo era un mondo che ho vissuto anch'io da studente, io sono del 68, questi qua sono ragazzi del 65, no? Più o meno. Questi sì, questi sono, nel 72 facevano prima. E quindi il 64, poco prima della mia classe, infatti corrisponde anche al tipo di tema, al tipo di scrittura, e scrivevano anche bene, bei disegni, belle cornicette, i tempi delle cornicette, no? Beh, io non ho mai fatto le cornicette, ma siccome ho trovato bambini, quelli di seconda, terza e quarta arrivavano da insegnanti precedenti, le avevano le cornicette, quindi va benissimo la cornicetta. Io ne ho fatto tantissimo, i cornicette mi sono divertito a bucare, perché poi scancellavo tanto e bucavo il quaderno. Ecco, lei parlava dei grandi educatori del tempo, no? Che sono stati Don Milani, Mario Lodi, Don Genova, Bernardini, un'anno più tralata. Lei pensa che questi, questi grandi pedagogisti oggi, cosa direbbero della scuola di oggi? Ma io ricordo Mario Lodi che è venuto nella mia classe anche, è stato un grande onore, per vedere, sembrava impossibile per me, ecco, è venuto nella mia classe e dunque poi a un certo punto ha vinto dei premi per questa scuola, ma all'estero, tutti i premi all'estero, per le cose bellissime che aveva fatto qui, che sono stati per noi insegnanti di quel tempo, veramente ci si ritrovava su queste esperienze. Lui ha scritto i libri dell'Innaudi, insieme, il Paese è sbagliato, ecco, c'è speranza. C.P. C.P. era suo, C.P. è il primo libro che ho letto io, pensi un po', il primo libro che sapevo leggere ho letto C.P. E magari qualcuno in famiglia, ecco. Invece per esempio, non so, c'è speranza se questo accadde al volo, sono libri di questo genere, però scritti dagli insegnanti, ricchissimi di spunti, ecco, molto belli. Però a un certo punto io mi domandavo appunto, Mario Lodi, cosa farà? Quando vedevo che cominciavano, si chiamavano i moduli galloni, quando cominciavano ad arrivare tutta questa farragine di persone, perché si capisce che avere l'insegnante unico può andare bene, può andare male, cioè si può avere un insegnante proprio terribile e quindi per carità amico, ti rovina per sempre, ecco. E avere, infatti forse il legislatore mi ha pensato questo, e averne tanti può fare del bene, è difficilissimo, perché per me è andata bene i primi anni, perché c'era il tempo pieno, ci si sceglieva, o poi c'è stata la scuola integrata, tutte le esperienze che stanno state fatte, anche d'accordo con gli assessori del comune dell'epoca, ma allora negli anni 70 era tutto un po' così, erano tutti un po' borderline, insomma, e chi voleva, chi aveva più grinta, determinazione e ideali, prima o poi ce la faceva, insomma, anche perché ci si ritrovava, quello di estrema sinistra e quello di estrema destra, con quello che credeva nel lavoro che faceva, ci si ritrovava. A certo punto c'era il modo, quando tu vuoi fare una cosa e ci credi, e trovi un altro che ti capisce e tu vai con quella persona lì, e gli altri stanno lì, invece adesso è un po' diversa la storia. È un po' diversa, posso immaginare. Allora comunque dicevo lì di Mario Lodi cosa ha fatto a certo punto, con i soldi che gli andate, se non ricordo più, si chiamava Premio Lieni, come si chiamava sto premio, non so, però l'ho preso in Russia, credo. E dunque, e gli hanno, ma c'era la Russia di Macarienko, c'era anche un pedagogista stupendo per me, Macarienko, che è stato un altro grande maestro russo, che faceva queste cose, mentre fuori c'era la guerra del, c'era la rivoluzione, la rivoluzione d'ottobre, e lui ha preso nella sua scuola, nella sua scuola, aveva 17 anni, ed era maestro, allora si diventava maestro a 17 anni, là, e allora lui nella sua scuoletta c'erano i figli dei nobili e i figli dei poveracci, tutti orfani perché si erano ammazzati i genitori nelle stragi, per cui li hanno messi lì, e lui diceva nella nostra scuola tutti cerchiamo di fare questa famiglia, di pensare alla scuola di domani, fuori si stanno ammazzando, si stanno accoppando, e noi invece cerchiamo di fare un'altra cosa. E ha fatto questo poema pedagogico, che per me è uno dei libri più belli, poi ho trovato Il titolo, com'è il titolo? Il poema pedagogico, che è di Torri riuniti, mi pare, sì, e questo è stato bellissimo, e poi quando ho trovato Don Zeno, quando ho incontrato poi Don Zeno di persona, oltre che prima sui libri, poi di persona, e quando ho dovuto scrivere su di lui, ho detto questo per noi è il Macarienco cristiano, è uguale maestro. Stiamo chiudendo questi 20 minuti bellissimi insieme alla professora Bogliancini, quindi un inciso di un minuto sulla sua esperienza a Nomadelfia. Nomadelfia, Don Zeno, com'è stato l'incontro? Eh dunque, l'incontro è stato bellissimo. Siamo negli anni? Dunque, io ho incontrato, ho letto il suo libro Nomadelfia, una proposta, nel 65, ma per dieci anni non ho potuto andare, io mi ero appena sposata nel 65, e avevo cominciato a studiare qualcosa, perché prima ero ragioniera, poi mi sono messo a studiare maestro, trovo questo libro, nel 65, ma questa è una cosa stupenda, avessi potuto sverlo prima, sarei andata. E poi invece, tra una cosa e l'altra, hanno potuto andare fino nel 75, quando ormai avevo fatto questa esperienza, tre anni nella scuola, in questo ambiente operaio, e che poi, siamo stani, e che poi si è chiamata scuola Anna Frank, questa scuola, e dunque, che poi si è poi distinta per il film, io ho poi lavorato molto nel cinema ragazzi, per cui a livello nazionale, internazionale, grazie all'aiuto di mio fratello, perché non ce l'avrei mai fatta, e quindi abbiamo tutta questa documentazione, a un certo punto decido di andare a, no, succede che Don Zeno viene ad Asti, con i suoi ragazzi, a fare la, loro la chiamano la carovana, insomma, a fare degli spettacoli dell'aperto di danza, prima c'era un spettacolo di danza stupendo, fatto dai ragazzi, che fa parte della scuola, dopodiché lui parlava al popolo, perché lui aveva questa cosa della rivoluzione, che era un prete però, era un prete, però era avvocato, che poi era diventato prete, era un avvocato che aveva cercato di fare tante cose come avvocato, poi invece ha pensato che fino a un certo punto si poteva, allora in quel momento ha provato a fare il prete, ha avuto tanti tanti problemi, ma è riuscito a fare alcune cose, è stata un'odissea, comunque nel 75 lui arriva qui e allora decidiamo, io e mio marito di andare a vedere questa Roma Delfia, lui ci ha invitati proprio, e allora siamo andati là e abbiamo visto proprio una cosa stupenda, perché cos'era la bellezza, cosa ha colpito, io facevo prima, quell'anno lì, avevo già fatto un ciclo, cominciavo a farla prima, sempre nella scuola Alma Frank, e colpiva questo, che mentre questi bambini, io cercavo di fare una bella scuola, una famiglia, un ambiente felice, giusto, dove si stesse bene, senza voti, non c'era misura di voti, eccetera, né punizioni, niente di queste cose qua, e però poi quelli uscivano e la società era quella che era, ecco, e allora c'era, ecco lì si era proprio in pieno terrorismo, lì allora c'era, infatti avevano paura questi bambini, perché non si sapeva, anche noi non sapevamo, perché, insomma, come era la cosa allora. E allora a un certo punto vedo, trovo, no, adesso qui è troppo lungo, ma comunque... Sì, purtroppo il tempo è trascorso e diciamo che, purtroppo, professoressa, ascolti, ci vediamo una prossima puntata, parliamo solamente di Nomadelfia, anche perché per svelare, lei ha scritto un libro su Nomadelfia e l'anno prossimo questo libro tornerà modificato. 42 anni fa, integrale come libro, e poi però l'appendice, siccome è piaciuta molto questa cosa, ci sono i bambini, la mia quarta, i bambini di prima che sono andati, in quarta hanno, avevano tutte le fotografie del documentario, le abbiamo messe in fondo, alcune, alcune, e allora c'era solo una riga l'ideascalia, invece adesso abbiamo messo qualcosa scritto dai bambini, come è successo qua. Dunque, il tempo è veramente tiranno e ci è già ucciso parecchio, siamo andati oltre, 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 oltre il limite, ringraziamo, è un piacere ascoltare e parlare con la professoressa Bogliancini, la ringraziamo moltissimo di questi 20 minuti entusiasmanti. Grazie a voi. Si sente la passione per la scuola, per l'insegnamento, per l'amore per i ragazzi. Grazie del suo lavoro, grazie del suo libro e arrivederci a presto. Arrivederci a presto, benissimo titolo, meraviglioso. Grazie a tutti e alla prossima puntata nel cuore delle parole. Grazie a tutti e alla prossima puntata nel cuore delle parole.